siamo arrivati alla quinta puntata della nostra serie sulle scienziate donne e siamo arrivati a henrietta suon levit una scienziata che diventerà una grande astronoma americana e lei è figlia di un pastore puritano protestante e di una madre che si chiama come lei henrietta suon e questa famiglia non è ricca ma è abbastanza benestante ed è particolarmente attenta all'educazione dei figli lei la primogenita di sette fratelli e la particolarità è che è attenta non soltanto all'educazione dei figli maschi ma anche a quella delle figlie femmine e dopo il scuole superiori si iscrive rietta a red cliff women's college una delle rare istituzioni universitarie specifiche per le donne perché dovete sapere che a quel tempo nelle università normale americane le donne non erano accettate erano solo maschili finisce l'università nel 1892 si laurea in materie umanistiche ma negli ultimi anni frequenta anche dei corsi di astronomia e si innamora dell'astronomia solo che la vita diventa più complicata per lei perché si ammala di una grave infezione che la lascerà completamente sorda e vista la sua grande passione per l'astronomia nel 1895 si offre volontaria gratuitamente per lavorare all'harvard college observatory il cui direttore è pickering che voleva fare un catalogo grandioso di tutte le stelle contenute nell'immenso archivio fotografico dell'osservatorio e per fare questo negli anni assumerà più di una cinquantina di donne che erano ritenute da lui più affidabili ma erano anche economiche perché lei pagava meno della metà del di un maschio che avrebbe avesse fatto lo stesso lavoro e assegna i vari compiti e il compito che dà a in rietta suon levit è quello di studiare le stelle variabili della piccola nube di magellano la la questa foto ritrae qualcuna delle donne assunte da pickering che formavano il cosiddetto gruppo di donne calcolatrici o più scherzosamente l'arem di pickering che vedete in alto nella fotografia ora le nubi di magellano le cui foto erano state assegnate a rete levit si chiamano così perché erano state non scoperte perché la gente dell'emisfero sud le vedeva sempre ma diciamo che erano state portate alla conoscenza quando magellano fa il suo giro del mondo dopo il capo di buona speranza e quindi va nell'emisfero sud e vede il cielo di quella parte di mondo dovete pensare che la grande e la piccola nube di magellano appaiono proprio come delle nubi luminose nel cielo qui vedete una fotografia ora le lastre fotografiche erano state prese da un modesto osservatorio telescopio posto in perù che però aveva fatto un buon lavoro e in pochi anni enrietta son levit individua 1777 sterle variabili che erano tutte localizzate nella stessa posizione cioè nella piccola nube di magellano questo un esempio questa è la curva di luce cioè il flusso che noi riceviamo in funzione del tempo e come vedete si tratta di una variazione regolare ciclica che si ripete con lo stesso periodo c'è la distanza tra due picco i picchi una misura del periodo rimane inalterata sempre queste stelle che si chiamano cefeidi hanno la particolarità di essere delle giganti di tipo spetrale f quindi sono molto luminose circa mille diecimila volte più luminose del nostro solo e quindi si possono osservare anche da molto lontano ora inrietta studia in particolare 25 stelle variabili cefeidi della piccola nube di magellano prepara e scrive un lavoro oltre ad aver fatto tutto i calcoli necessari e questo lavoro viene firmato da pickering che nella prima riga dice che il lavoro è stato fatto da enrietta levit ora questo era normale a quei tempi le donne non firmavano i lavori che esse avevano fatto e che cosa presenta questo lavoro in rietta si era accorta che le stelle che erano nella nube di magellano avevano una particolarità se esse avevano un periodo lungo di parecchi giorni la loro il loro flusso la loro brillanza era più grande di quelle che variavano in tempi più rapidi ora mettendo in relazione il periodo e il flusso ricevuto si vedeva una legge che era abbastanza ben obbedita da tutte queste stelle variabili più lungo era il periodo più grande era il flusso ricevuto dovete sapere però che a quel tempo non si sapeva con esattezza la distanza della piccola nube di magellano per far questo si deve aspettare la calibrazione di questa relazione cioè aspettare che di misurare di vedere una cefeide la cui distanza poteva essere individuata con il metodo della parallassa che era l'unico conosciuto a quei tempi fatto questo si poteva finalmente trovare la distanza della piccola nube di magellano e quindi calibrare e questa relazione diventa la relazione tra il periodo e la luminosità intrinseca delle cefeidi ora questo è di un'importanza capitale perché viene usata questa relazione pochi anni dopo nel 1923 da edwin hubble che riesce a individuare una cefeide in quella che veniva chiamata allora la nebulosa di andromeda quindi sapendo il periodo trova la luminosità intrinseca di questa stella ne misura il flusso e quindi riesce a misurare la distanza che viene enorme viene due milioni e mezzo di anni luce pensate che con lo stesso metodo delle cefeide pochi anni prima scepli aveva misurato la dimensione della nostra galassia che ha risultato a essere di centomila anni luce quindi ha dimostrato hubble che andromeda non era nebulosa ma è proprio un'altra galassia esterna alla nostra e di colpo quindi l'universo conosciuto che prima era limitato alla nostra galassia così si pensava viene moltiplicato di grandezza di 25 volte quindi un grandissimo risultato ma non si ferma qui hubble hubble continua a misurare la distanza delle galassie con il metodo delle cefeidi e trova ben presto una relazione fondamentale e scopre che più lontane sono le galassie e più velocemente si allontanano da noi la cosiddetta legge di hubble che oggi viene chiamata legge di hubble lemaitre george lemaitre astronomo belga ora questo immediatamente dimostra che l'universo non è statico non è fermo come tutti pensavano tutti compreso einstein ma si sta evolvendo si sta espandendo e questa è una scoperta ovviamente fondamentale ed è stata resa possibile proprio da henrietta levi per aver trovato con grandissima pazienza una cosa fondamentale la relazione tra la luminosità e il periodo delle stelle variabili chiamate cefeidi ma cos'è il meccanismo il motore di questa variabilità è dovuto a una variabilità del nucleo delle proprio delle reazioni quindi è la luminosità vera la potenza che cambia oppure è c'è un'altra ragione la risposta adesso si sa devo dirvi che è un'altra ragione prima di tutto andiamo a vedere dove stanno le cefeidi nel diagramma luminosità assoluta e classe spettrale il diagramma di espum russell o diagramma hr vedete che c'è una posizione particolare una striscia che è più o meno perpendicolare alla sequenza principale dove stanno queste giganti si chiama striscia di instabilità dove le stelle diventano variabili dovete sapere che ci sono due almeno tipi di cefeidi ci sono le cefeidi tipo 1 classiche pochino più luminose e cefeidi tipo 2 o v virginis e pensiamo di avere quindi una cefeide a un nucleo che continua a emettere radiazione potenza alla stessa allo stesso ritmo lui non varia mai però in queste stelle ci sono degli c'è uno strato in cui la temperatura particolare è circa 200 mila gradi 200 mila gradi corrisponde della radiazione che è capace di ionizzare l'elio l'elio sapete a due elettroni nel suo guscio nel suo strato esterno ecco in questo strato l'elio può venire ionizzato una o due volte e facendo così libera degli elettroni che fanno sì che la radiazione interagisca di più quindi quello strato diventa ancora più opaco ma non si espande immediatamente perché non si scalda tanto perché l'energia di questa radiazione che viene assorbita viene impiegata per strappare gli elettroni dal nucleo di elio però a un certo punto questo strappo finisce perché finisce l'elio neutro e quindi finalmente questo strato scaldandosi può espandersi ma espandendosi rimane comunque opaco alla radiazione finché l'elio si ricombina cioè prende elettroni dall'ambiente comincia a diventare neutro e quindi strappando elettroni via questo strato ridiventa più trasparente lascia sfuggire tutta la radiazione che prima era ingabbiata allora nel momento in cui l'elio assorbe la luce per ionizzarsi si ha il minimo di luminosità apparente di flusso che viene liberato quando invece lo strato si è espanso e l'elio comincia a ricombinare diventa trasparente questo questo strato la radiazione ingabbiata prima comincia a liberarsi e abbiamo il massimo di flusso e di luminosità irraggiata e questo è elio poi che viene ricombinato no si raffredda e quindi ricade questo strato dove era venuto e il ciclo ricomincia quindi sia un ciclo che dura per tutta la vita della stella e sempre regolare e quanto più grande la luminosità intrinseca della stella e quindi la potenza eccetera e quanto più lento è questo ciclo di anda e rianda dello strato e tornando a in rietta suon levit abbiamo che finalmente nel 1921 diventa direttore shepley che la conosceva bene e la promuove facendola diventare un membro effettivo dello staff dell'osservatorio ma purtroppo in rietta è già malata da qualche anno di cancro e nel dicembre 1921 muore di cancro allo stomaco a soli 53 anni e c'è uno svedese matematico che vorrebbe candidarla al premio nobel nel 1926 scrive a shepley chiedendo di lei e shepley gli comunica che purtroppo rietta è già morta dopo la sua morte le vengono dedicate un asteroide e un cratere lunare e finiamo questa serie dicendo delle tre ultime donne che vi ho descritto dicendo che sono state tre donne formidabili eccezionali e importantissime per l'astronomia e tutte provenivano dall'area di pickering abbiamo erietta levitt che inventa scopre il metro con cui misurare l'universo any cannon che fa la classificazione stellare basata sulla temperatura che si sta usando ancora adesso e poi abbiamo cecilia pain e lottando contro i pregiudizi del tempo dimostra che il sole è fatto di idrogeno e non degli stessi elementi che troviamo qui sulla terra quindi tre tappe fondamentali dell'astronomia tutte derivate dallo stesso gruppo dal gruppo dell'arem di pickering e con questo vi saluto e arrivederci alla prossima